Salve a tutti ragazzi, qui TTT, ben ritrovati sul mio canale! Siamo qua per affrontare l'ultima Bluezone contro... Oh-oh, a più fasi delle tre che mi aspettavo in croce. Ehm, contro Migatte Nogokui! Ehm, Bluezone Migatte Nogokui. Se parte da God vuol dire fa... God, Super Saiyan Blue, Ui, Mui. Ah! Io che volevo usare Gohan tranquillamente. Vabbè, speriamo non abbia tre triliardi di vita a fase. A tre triliardi di vita a fase, porca Eva. Allora, calma, 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 calma. Possiamo comunque sfruttare la roba, dipende ovviamente da alcune robe e dal danno che riceviamo. Aspetta, ma le speciali di Goku come sono? Ma se sono delle onde gone non ha problemi da quel lato, no? Forse però da un lato avrei preferito Gohan al terzo turno. Eh, forse un po' un po' l'avrei preferito al terzo turno, eh, Dokkan? Grazie. Vabbè, andiamo. È già lì che punta il ferro, eh, vabbè. Vabbè, non credo che ora farà malissimo. Parte da God vuol dire che ha tante fasi, non credo che farà malissimo questa. Vediamo un po'. Potrei aver già sbagliato il team, ma... Ok, è morto. Un colpo così... Ok, va bene. Potrei aver sbagliato il team, lo dico subito più che altro per un semplice fattore. Mi son portato un super hero Gohan Beast. Funziona molto bene. Quando gli eventi sono cortini. Se l'evento è lunghino, non tanto bellino. Ok, non è tanto bellino. Non è tanto bellino. Quello è il problemino. Yeah. La smetto di parlare in questo modo, tranquilli. Che host è questa? Non lo so. Non lo so, sinceramente. Che host è questa? Go quit! Non lo so, sinceramente. Ah, go quit! Ok. Ok. Meno ok, ma va bene comunque. Molto meno ok perché non boostiamo Gohan. Molto meno ok in realtà. Molto meno ok. Sermon. Sermon. Molto meno ok perché qua i danni ovviamente li andiamo a fare. No problem però. Più me dall'altro lato. 18 milioni di pura cattiveria. Eh sì, no, Gohan non lo vedremo mai. No, Gohan non lo vedremo mai qua. Ok. Super Saiyan Blue mentre fa la Genki. Sicuro. Super Saiyan Blue mentre fa la... Ah ma no, è coso? È Migat STR. È Migat STR. Ha tutte le robe di Migat STR. Fanni. Bell key. Ottimo key. Fantastico key. Yeah. È il key della vita questo. Mamma mia. Attaccati al cazzo piccolo, mi dispiace. Prossimo turn. Buono quello. Mi piace. Una copia dei top. Non lo ho. Allora, singola copia. E come tutti gli Ezan non è che ne vale troppo la pena. Simone, grazie mille per la sub. Livello 1. Grazie mille. Grazie mille. Singola copia è un po' come tutti gli Ezan. Non vale sempre troppo la pena. Di danni ne farà ma non... Super altissimi come... Quando la vedi a full ability. Però alla fine dei conti nel kit c'ha tutto. Ma forse forse... Fanculo Goku. Forse forse con tutta la sincerità potresti anche tranquillamente fregartene e prenderlo. Potresti fregartene e prenderlo e usarlo. Nel senso. Ci potrebbe stare in realtà. Ci potrebbe stare. Comunque non ha molta vita sto robo. Muore velocemente. Perfetto. Sì. Sì. Abbiamo la target skill pronta per quando potrebbe servire. Sì abbiamo le orbe rainbow da lì mi vanno bene. Così. Più un problema... No. Dobbiamo prendere... Dobbiamo forse prendere un po' di danno dopo. A cazzo lo prendiamo più che altro. Abbiamo un problema di danni che prenderemo. Abbiamo un Gohan che ha girato però. Ho paura. Ho un po' di paura per uno dei Gohan. Non potrei usare piccolo al momento. Mi conviene usare piccolo credo perché ho un po' di paura. Però perderemo vita. Lo dico subito. Perderemo vita. Quindi... Mi sa che tiriamo piccolo qua. Direi... Direi così. Ehi la mi gatta l'RSTR che però è tech. Va bene. Sì direi usiamo piccolo perché in questo caso abbiamo uno dei due Gohan che poveraccio ha girato e non è ancora neanche un minimo boostato. L'altro è boostato quindi avrà meno problemi a tankare. L'altro è boostato. Eh l'altro è a 151.000. Devo usarlo dopo. Lo devo tenere tipo secondo. L'altro che è il friend... Sì devo fare questo. Andiamo di piccolo e ci togliamo le special. Per com'è girata un attimo la run. Io lo devo tenere in turno uno dei Gohan. Doveva. Giochiamoci bene le orbe. Vabbè scopriamo anche i danni. 500k da pugno ok. Va bene. E quant'è la special? Non dovrebbe essere ancora troppo alta la special no? È MUI. Quindi qua siamo ancora Wii. Manca ancora qualcosa di danno. Bisogna capire quanto mi devo preoccupare. Bisogna capire quanto ancora mi devo preoccupare. Quando vuoi tirare la special grazie eh. Anche perché ho usato piccolo per togliere le special. Grazie Doc. Guarda te che procede. Non farla mai. Sarebbe da memata eh. Sarebbe da memata. Eccola qua. Facciamoci un'ideuzza di quant'è. Bra. Aia. Allora. Se abbiamo preso un milione e otto cos'è? Un milione e nove praticamente. È un milione e nove. Dovrebbe girare su un milione e nove. Aia. 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 Se gira sui milioni e nove. Aia. Fa malino. Fa malino. Non è ancora a livello tranche eh. Con tre milioni però. Vabbè. Fa male. Muì avrà due milioni e mezzo. Spero di no. Spero di no. Spero di no dai. Allora qua abbiamo più che altro però dei problemi veri. Veri. Veri e propri problemi. Bisogna vedere dove sono i colpi. Tutte le cose. Bisogna vedere un po' di robe. Calma un attimo perché non è... Non è così free la situazione. Ho paura. Fa... Se riusciamo a trasformare Vegeta è bene per dopo. Però comunque arriva un Gogeta. Se no... Se blocca leva sia nella merda. Calma. Tfanculo cazzo. Cambia le orbe. Vaffanculo. Aaaaa. Mi stavo preparando le orbe apposta. Stronzo. Era da tre quarti d'ora che me le stavo preparando. Stronzo. E tanto dopo me le blocca... Me le cambia di nuovo. Vaffanculo. Evade. Buon. No. Non sembra. Non ha ancora evas un colpo. No. O ha la chance bassissima. E che in realtà nei boss così non è che gli danno 100% eva nel senso. È spesso sotto al... Al 20. Ok. Te lo può fare. Anche per Broly... Il trio assolutamente può rompere. Ma anche per i Super Saiyan Blue in realtà eh. È come il mio Yi non ha voglia. Ci sta. Eh... Vabbè. La situazione al momento è chiara. Dobbiamo ucciderlo. Dobbiamo però anche prendere giusto un pochino di danni. Comunque i pugni faranno male. Quindi... Più che altro per dopo perché comunque... Non sape... Scine! Me la porterei con me da un colpo solo. Calma. 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 Lasciamo cucinare. Qua i pugni piccoli non dovrebbe essere proprio un problema. È un problema per dopo però a prescindere. Ve lo dico subito. È un gran problema per dopo. È un gran problema per dopo. Come fai a non farla? L'LBR Surrected. Sato. What the fuck. Come? Au. Calma. Non bloccare leva. Se blocca leva siamo nella merda. Se blocca leva siamo nella merda proprio. È meno. Meno in realtà. Meno. Forse siamo nella merda. Forse siamo veramente tanto nella merda. Forse siamo veramente tanto nella merda. Ma tanto nella merda. Tanto nella merda. Siamo tanto nella merda. Lo dico proprio. Ai ai signor. Eh. Sì. Ai ai signor. Let them cook. Let them cook. Let them cook. Ciammi, gatte Do you bloccare evasione? Do you bloccare evasione? Cazzarola se la blocchi Sono nella merda se lo fai Sono veramente tanto nella merda se lo fai Do you bloccare evasione? Unica Unica cosa proprio Do you bloccare evasione? Lo devo fare Non me ne frega Lo scopriamo qua Non bloccare evasione Non bloccare evasione Non bloccare evasione Per favore Calma Let gogetta cook Calma Questa qua è una special che può counterare? Vabbè, lo scopriremo Abbiamo ancora la special di Gombeast per dopo per togliere dei colpi by the way Quindi yeah Tenetela contro la cosa Qua non prenderemo danni Ma a noi va bene Let gogetta cook Non bloccare l'evasione Non bloccare l'evasione Ti prego tanto non lo fare Ti prego tanto di non farlo Please Ti voglio bene amigate Non lo fare Non lo fare Yes Yes Evade bastardo Lo sapevo Figlio di Evade Evade Non bloccare l'evasione Ma evade Figlio di Come come More More Non ho capito Che volevi far amigate Che volevi far amigate Non ho capito Non credo di aver capito Tu volevi Fare cose esattamente Non ho capito Non ho capito Volevi prenderlo nel culo Yeah Possiamo attivare il blu No? Perché non prendiamo danno Cazzo Quella active è difficile da vedere La vorrei tanto tirare Porca Eva Sarebbe divertente Stai a tirare Ma non abbiamo ancora avuto la chance Di tirarla Però è un casino Abbiamo un po' di mosse per dopo Calma Dove vado ovviamente Rompicazzo We got some problemoni Quanta def abbiamo 400 We got some problemoni We got some problemoni We got some problemoni A poca vita Un colpo glielo togliamo Speriamo che sia un pugno Speriamo che sia un pugno Lo dico proprio per quello che è Speriamo sia un pugno Speriamo sia un pugno Un pugno Fai solo un pugno Un pugno Please Un pugno Doloroso Don't care Attaccate No questo no Dai Per favore Non rompere i coglioni C'è Goku e Frieza No eh Non c'è Goku e Frieza Ora Vero Sarebbe la longest battle No donna Attaccati al cazzo Prima try Prima try Eds Statistica alla mano 40 milioni 1 e 2 Ah Già cattivina dal primo turno Va bene E non fa niente Tanto vabbè 43 milioni 1 e 5 Porca Eva Ok Cattivina Cattivina Non troppo Ma cattivina 50 milioni 5 e 70 5 e 45 Prima Ok Sì No Questa fase è un po' cattivina Più che altro per il turno In cui ci arrivate Però non fa niente ancora Goku ultraistinto 50 milioni 5 e 70 2 e 30 Vabbè ok DR ok Rays is attack Per un turno Del 30% Quindi arriva a itare 700k Anche lui 1 e 7 Arriva a itare 2 milioni Ok 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 Quindi 2 milioni Di special qua Cambia le orb 100% Ok Rompicazzo Pesante Ok E abbiamo poi Migatte 55 milioni 600 mila D'attacco Rays is attack Per un turno 30% Chaos colossal damage E seal E seal è il super attack Da una special Di 1 e 8 e 3 Quindi arriva Ad un milione E a 2 milioni E 100 Ok Domanda vera Dokkan Why this? Why? Perché questo è lo stage 4 Dokkan? Mi sembra molto Sbagliato lo stage 4 Con 3 milioni Di special Dokkan E un milione Da pugni Cioè Una mini special Ogni pugno Che vi fa Perché Dokkan E' sbagliato Cioè Ripeto E' sbagliato Ah Quanta era leva? Aspetta Aspetta Quanta era leva? 5% Oddio Santo Vabbè Questa forse è di più Anche La difesa Fase 2 Che rompe le balle Perché comunque E' quella difesa altissima Che ti O critti O critti Praticamente Quindi Yeah Perché Questo è il boss Stage 4 Dokkan Lo voglio sapere Io Mazzu Per favore Mandami un messaggio Su twitter Tramite l'account Dokkan Official JP E dimmi perché Trunks è così cattivo Confronto a Migatte Che per ora Sarebbe l'ultimo boss Boh Vabbè Grazie Va bene A posto Le blue zone Battute Manca il team extreme Quando avrò voglia Il team extreme Yeah Yeah Grazie a tutti.